Ciao a tutti, sono Federico Torombini. Oggi vi propongo un riscaldamento perfetto con questi quattro esercizi. Questo è un circuito che attiva molto bene l'articolazione delle spalle, delle anche, attiva l'addome, il core. Può essere fatto davvero ovunque. Ripetiamolo per quattro o cinque volte e siamo pronti per affrontare qualsiasi allenamento. Provare per credere! Oggi vi presento quattro esercizi per riscaldarsi in maniera perfetta. Il primo esercizio è un barpees facile. Come vedete porto i piedi completamente appoggiati a terra vicino alle mani e alterno prima una gamba, poi l'altra. Ne eseguo dieci. I polsi sono sempre sotto alle spalle, perpendicolari alle spalle. Abbiamo poi un secondo esercizio che attiva la parte cardiaca, attiva il cuore, ed è il jumping jack. In questo caso cosa vado a fare? Vado a fare una cosa molto semplice, ossia vado ad aprire e chiudere gambe e braccia contemporaneamente, cercando di tenere un ritmo fluido e sincrono. Il terzo esercizio, che è sempre un esercizio aerobico, è lo skip. In questo caso mi fermo un attimo tra un esercizio e l'altro, prendo e inizio a sollevare le ginocchia verso l'alto. In realtà posso modulare l'intensità di questo esercizio. Posso partire lentamente, ma posso anche in realtà farlo più veloce e alzare di più le ginocchia. In questo caso fondamentale è spingere bene con l'avampiede e muovere le braccia in sincronia con le gambe. Quindi muoviamo bene i gomiti, in modo tale che così attiviamo anche la parte superiore. Ci resta poi un quarto ed ultimo esercizio che serve per attivare la parte centrale del corpo, ossia l'addome e la parte del core. Questo è un esercizio di tenuta dove io vado a distendere le gambe e a distendere le braccia. Come vedete la posizione deve essere ad arco, le gambe completamente tese, piedi a martello e soprattutto una cosa molto importante è guardare il soffitto, quindi non piegare il collo in avanti ma guardare il soffitto, sollevare le scapole, tenere le gambe tese, addome forte e posso renderlo più intenso portando le braccia tese dietro. Fatti questi quattro esercizi, ripetuti per 4-5 volte, voi sarete caldi per affrontare un qualsiasi allenamento.